il 29 a questo punto, verte sulla necessità di rimodulare il piano di riequilibrio così come lo propone, non è nemmeno un adempimento cogente perché lo stesso comma 714 dell'articolo 1 della legge stabilità 2016 dice che gli enti possono rimodulare o riformulare il 30 settembre il piano, quelli essenzialmente che hanno aderito al piano di prediscesso ed è stato approvato. Quindi la necessità io ritengo sia da cogliere, cioè l'opportunità credo che sia da cogliere come necessità tenuto conto di una serie di cose. Innanzitutto sappiamo bene che il piano di riequilibrio è stato concepito, approvato e definitivamente approvato in Consiglio Comunale nel 2013, approvato in sezione regionale Corte dei Conti nel 2014, ovviamente con norme ben diverse rispetto a quelle che oggi invece abbiamo in essere. C'è stata una profonda riforma, sappiamo bene che con l'attuazione del decreto legislativo 118 del 2011 che con il decreto legislativo 116 ha fatto partire questa armonizzazione e la competenza potenziata nel 2015 è cambiato ovviamente lo scenario e quindi in qualche modo anche il piano deve tenere conto di quelle che sono i riverberi che ha ovviamente l'armonizzazione. Un escursus minimo breve sulla questione legata all'armonizzazione, atteso che l'amministrazione comunale ha seguito perisseguamente quelle che erano le linee di indirizzo della deliberazione numero 4 delle sezioni autonomie del 2015 attraverso le quali si dettavano le linee importanti da seguire per poter costruire il piano e il passaggio dalla contabilità storica ordinaria che siamo stati abituati fino al 2014 a conoscere nelle sue fondamenti e nelle sue radici a passare invece a una contabilità armonizzata che tenesse conto della competenza potenziata e della contabilità di cassa autorizzatoria. Bene anche il decreto del MEF, il decreto del Ministero dell'Economia che con il 2 aprile del 2015 ha dettato le linee attraverso le quali i enti dovevano fare il riaccertamento straordinario per convertire quella contabilità vecchia di competenza ordinaria a quella di competenza potenziata attraverso questa costituzione del fondo credit di dubbia esigibilità e quindi l'emersione di questo disavanzo da armonizzazione da assorbire nei 30 anni. Noi lo abbiamo fatto ed è stato approvato in Consiglio Comunale questo riaccertamento con la delibera numero 42 del 6 agosto del 2015. Quindi fin qui tutto bene, poi le cose si sono un po' complicate perché c'è stato un legiferare lacunoso e anche carente devo dire attraverso il quale le questioni legate all'armonizzazione rispetto agli enti che hanno aderito al predistesso non sono state completamente chiarite. E mi riferisco innanzitutto al decreto legge 78 del 2015 nonché alla legge di stabilità con il comma 714 che in qualche modo individua anche per gli enti in predistesso un percorso di armonizzazione dell'assorbimento del disavanzo. Noi ricordiamo che con il nostro piano di riequilibrio ci siamo impegnati ad assorbire il disavanzo con i famosi 850 milioni ad assorbirli in 10 anni. Con il decreto legislativo 126 con l'attuazione dell'armonizzazione il disavanzo da riaccertamento straordinario, il secondo riaccertamento straordinario, noi avevamo già fatto un riaccertamento straordinario nel 2012 alla data del 31-12 del 2011 con il rendiconto 2011 con il riaccertamento straordinario previsto dal decreto 126 e si è data la possibilità a tutti gli enti, a tutti i comuni e questa non è un'esperienza solo di Napoli ma a tutti i comuni che sono passati ovviamente dalla contabilità ordinaria alla contabilità finanziaria potenziata di assorbire questo disavanzo per questo disallinamento temporale, per la trasformazione dei residui attivi e passivi in crediti e debiti quindi cercare di avvicinare quanto più possibile la contabilità di cassa si è data la possibilità ovviamente necessaria per tutti gli enti di arrivare ad un assorbimento di questo disavanzo in 30 anni. Nemmeno ci dà la legge di stabilità indicazioni perché mentre la legge di stabilità lascia intravedere un percorso di armonizzazione perché altrimenti avremmo due disavanzi e due velocità di assorbimenti diversi perché abbiamo un disavanzo da piano che vede appunto impegnato il comune nei 10 anni per rientrare nei famosi 850 milioni più un altro disavanzo la cui velocità ovviamente è molto più lenta e ci dà la possibilità agli enti di potersi agevolare del maggiore termine dei 30 anni. Quindi abbiamo queste due criticità che non vengono chiarite dal legislatore. A complicare le cose la delibera della Corte dei Conti, sezione autonomia numero 13 che dice che gli enti che hanno un piano di riequilibrio possono utilizzare, tenuto conto che possono rimodulare così come prevede il comma 714 il loro piano però impregiudicabilmente non deve essere toccato il piano di riequilibrio, cioè restano impregiudicati gli elementi e gli impegni assunti dal piano. Quindi fa intravedere la norma, cioè la deliberazione delle sezioni autonomia fa intravedere la impossibilità da parte dell'ente comune di Navo di riformulare completamente il piano. Quindi che cosa noi abbiamo fatto? Abbiamo ritenuto opportuno tenere in considerazione della delibera numero 42 con cui è stato approvato il nostro riaccertamento straordinario e con il quale è emerso questo disavanzo da armonializzazione. Abbiamo ritenuto opportuno considerare il disavanzo così come era previsto dal comma 714 bis introdotto dal decreto legge 113 2016 la possibilità di questo ulteriore disavanzo accumulatosi con l'entrata in vigore nel 2015 dell'assorbimento del disavanzo in un periodo massimo della durata del piano di riequilibrio. Quindi noi sono sette anni perché i primi tre anni noi li abbiamo già passati e quindi abbiamo questa necessità di riclassificare il nostro disavanzo che avevamo nel nostro piano di riequilibrio che era un piano che prevedeva una media di 80 milioni di assorbimento di disavanzo dal 2013 al 2022 di riformulare il nostro assorbimento del disavanzo in tre linee di disavanzo fin quando non sarà chiarita la norma perché anche l'Anci sotto indicazione non solo dell'amministrazione comunale ma anche degli altri enti in prediscesso hanno cercato più volte di far passare ovviamente lo spirito con gli incontri che sono stati fatti con i due ministeri di far passare quello che è lo spirito della norma cioè quello di armonizzare quello che era previsto con l'ex 174 con quello che invece oggi è in vigore con il 118. Non si è dato grande spazio a questo tipo di interpretazione ma dagli incontri e dalle interlocuzioni che ci sono state in più occasioni con i ministeri dell'economia e dell'interno sembra che questa interpretazione estensiva di armonizzazione debba passare con la legge di stabilità del 2017. Quindi aspettiamo con fiduciosi che questo arrivi per dare la nostra possibilità di fare una riformulazione più ampia. Quindi oggi noi andiamo a rimodulare il nostro piano nella sua esposizione del disavanzo atteso che il nostro disavanzo da piano è ridotto a 205 milioni che devono essere assorbiti nei 7 anni residui rimanenti per il completamente quindi abbiamo circa la media di 25 milioni all'anno un assorbimento così come era stato previsto già dalla delibera 42 del 2016 del disavanzo da armonizzazione quindi nei famosi 29 anni per circa 47 milioni più questo assorbimento di disavanzo scaturito nell'anno di applicazione dell'armonizzazione del 2015 che sono circa 53 milioni la norma il 714 bis ci dà la possibilità di assorbirli nei 7 anni rimanenti del piano. Quindi abbiamo una tabella che è stata modificata nella sezione seconda del piano di riequilibrio che è allegata alla relazione illustrativa dove vengono anche così ma giusto per dare un'ulteriore informazione vengono ripresi stracci di relazioni sia del maxi emendamento sia stracci alla relazione del rendiconto del 2015 è utile avere sotto mano le informazioni che avevamo già dato in occasione della discussione sia del maxi emendamento in serie di previsionale del 2016 sia nell'occasione dell'approvazione del rendiconto del 2015. Quindi questo è l'atto deliberativo, una mera ricognizione del disavanzo nella sua articolata composizione questa simmetria che è stata in qualche modo anche denunciata da Lanci in questi incontri governativi non ha ancora avuto un esito positivo quindi pertanto abbiamo questo piano che sebbene abbia nella sua interezza un assorbimento di disavanzo prestoché simile a quello da piano però ha questa necessità oggi di attendere gli atti che ci daranno la possibilità di assorbire innanzitutto i nostri 205 milioni che rimangono ormai la quota residua del disavanzo da piano quindi potremmo assorbirli nei 30 anni per pochi milioni all'anno oggi invece dobbiamo prudenzialmente mettere nel nostro piano un assorbimento di 25 milioni all'anno. Altro tema importante su cui non vengono fatti chiarimenti è sulla questione dell'alimentazione delle anticipazioni a finanziare il fondo credito di esigibilità cioè il disavanzo e questo l'abbiamo già detto quando abbiamo discusso il rendiconto ma anche in occasione del previsionale quando noi abbiamo calcolato il fondo credito di esigibilità lo abbiamo fatto all'ordo delle anticipazioni concesse ai senzi del DL35. Poi successivamente è intervenuta la norma che ci ha detto che l'anticipazione va a finanziare e ad alimentare il fondo credito di esigibilità. Cosa voglio dire con questo? Che oggi l'assorbimento viene calcolato all'ordo di questa partita cioè nel senso che se vediamo il prospetto della tabella che è allegata alla relazione che vedete all'interno della relazione che è allegata alla deliberazione vedete che c'è un disavanzo di 47 milioni legati all'armonizzazione. Se però vedete l'ultima tabella che è la quota di capitale di restituzione dell'anticipazione cioè nel senso che rispetto ai 47 milioni di assorbimento del disavanzo dai 30 fino a poche è un metodo francese quindi di restituzione dell'anticipazione quindi la quota capitale cresce e crescente rispetto agli interessi che invece sono decrescenti quindi partiamo da una restituzione di 30 milioni fino ad arrivare addirittura ad una restituzione di 50 milioni. Quindi significa che l'assorbimento del disavanzo oggi una buona parte dell'assorbimento del disavanzo non è altro che l'anticipazione che noi già teniamo nel nostro bilancio. Quindi nel senso che il nostro disavanzo per farla breve che è conteggiato per 1 miliardo 6,39 milioni al netto dei 205 milioni diventa 1 miliardo 4,33 milioni al netto dell'anticipazione arriva probabilmente che è da 257 milioni quindi di fatto noi abbiamo una che poi la somma dei due disavanzi fa 687 milioni quindi non vorrei dare troppi numeri però per darvi l'entità effettiva del nostro disavanzo la somma del disavanzo nostro quello da piano più la somma del disavanzo da armonizzazione. Ciò significa che il piano oggi tiene, contiene, prudenzialmente ha in pancia anche tutte le leve per assorbire un disavanzo più grosso rispetto a quello che effettivamente è tenuto conto che si attendono queste illustrazioni e delucidazioni in merito a questi elementi. Quindi la delibera prende in considerazione la nuova rimodulazione dell'assorbimento del disavanzo non cambia nulla se non la sua composizione, la sua articolazione perché ha tre diciamo nature, uno è legato al nostro piano di riequilibrio, il secondo è da armonizzazione l'abbiamo detto, il terzo invece è quel gap di disavanzo non recuperato con il rendiconto 2015 che si ha la possibilità di assorbire fino al 2017, fino al 2022. Questo è il quadro. Si aspettano con l'Anci, abbiamo interlocuzione con l'Anci perché questo non sfuggirà all'assemblea che questa possibilità che ci verrà data successivamente ci consentirà di recuperare almeno una quarantina di milioni di risorse perché non destinate poi all'assorbimento del disavanzo perché assorbire il disavanzo al netto dell'anticipazione, assorbire il disavanzo da piano in 30 anni e non in 7 anni ovviamente libera risorse per quelle che sono poi le esigenze dell'amministrazione. Quindi credo che tutte le condizioni sono per rivedere nel futuro il piano in meglio ma oggi prudenzialmente conviene rimodulare il piano nella misura in cui ci dicono le sezioni autonomie della Corte dei Conti. Grazie.